Salve dal Campani Group, oggi sono qua per presentarvi un allestimento speciale per trasporto disabili allestito su base Peugeot Boxer. Adesso vi inizierò il vano sanitario accedendo dalla porta laterale destra. Come vedete la prima cosa che si nota è il predellino laterale meccanico di serie sul Peugeot Boxer vetrato. Il Peugeot Boxer vetrato è la versione ideale per la costruzione di questo tipo di allestimento. Il cuore di questo allestimento è il pianale. Il pianale è un Flex 4 di ultima generazione, un pianale in alluminio con 8 slitte. Permette la modularità dei sedili, quindi una combinazione tra 4 carrozzine e sedili singoli, sino a un massimo di 9 persone. Questo pianale è unico nel suo genere, viene prodotto solo per questa tipologia di veicolo. Il sistema di ancoraggio delle carrozzine si va ad ancorare direttamente sul pianale Flex 4 in qualsiasi posizione e con le tensione vetture andiamo a bloccare la carrozzina. E adesso vediamo come si accede il vano sanitario con le carrozzine, utilizzando una pedana retrattile idraulica a doppio braccio con una portata di 250 kg. E adesso vediamo come si accede il vano sanitario. Calcio il mio yotica sembrilla a calamare. Cebolla è il vano Credito Teach più stagith